Sono Maria Cristina, sono Visual Designer e sono studentessa del Master UX Design Essential. Ciao a tutti, io sono Claudia e sono una Project Manager collaborativa. Ho scelto questo Master perché credo sia uno dei migliori Master disponibili in Italia. Ho scelto questo Master perché mi piacerebbe in un futuro lavorare come UX Designer. Perché volevo comprendere meglio alcuni concetti legati al Service Design, in particolare alla UX Design. Il mio modo di approcciarmi ai progetti in seguito a questo Master è cambiato perché sono cambiate le mie prospettive e ho capito l'importanza soprattutto di quello che è il rapporto umano con il futuro potenziale utente e soprattutto quanto è importante e preziosa l'empatia. Mi sono piaciute due cose in particolare. La prima sono le persone che ho conosciuto, che mi hanno permesso di vedere le cose da un punto di vista diverso. e la seconda sono gli insegnanti. Ci hanno spiegato in modo semplicissimo i concetti. Lo consiglierei a tutte le persone che non conoscono la UX Design, che vogliono comprendere qualcosa e che la vogliono utilizzare nel loro lavoro o per fare un'esperienza diversa e conoscere e vedere i punti di vista diversi. Consigliare questo Master a tutte le persone come me che lavorano e che quindi hanno la necessità di poter frequentare un Master da remoto e lo consiglierei a chiunque volesse approfondire i fondamenti della UX e perché no potersi tuffare in questo ambito nuovo, in queste nuove opportunità lavorative. Io spiegherei la user experience a un bambino semplicemente con come usi le cose, qualsiasi cosa, per esempio anche un cucchiaino. I bambini mangiano col cucchiaino, giusto? Quindi l'esperienza è legata all'utilizzo del cucchiaino. Per UX Design si intende la riprogettazione di un qualcosa da un punto di vista diverso, quello dell'utente.